Importantissimi perché dai dati statistici estraiamo i numeri che ci consentono di capire come andrà il nostro business nel prossimo futuro e ci muoviamo di conseguenza sulle imprese target. Noi normalmente frequentiamo i siti internet, anche il sito di Istat per noi rappresenta comunque una fonte molto importante di informazione soprattutto nel momento in cui andiamo a verificare il numero di aziende e la crescita degli addetti occupati nelle stesse. Cercando di essere presenti all'interno delle aziende è importantissimo sapere quanti sono i dipendenti per poter poi scegliere le imprese giuste nelle quali recarci per la nostra attività. Conosco Istat, conosco l'attività che fa Istat perché spesso e volentieri da operatore all'interno delle imprese mi sono trovata a compilare questionari e l'ho fatto sempre in modo molto proattivo perché so l'importanza che questi numeri hanno per tutti gli operatori dei vari settori di business.